rossanna lei è la vice coordinatrice dei centri anziani di questo municipio perché ha scelto di fare questo corso nonni su internet alle poste ho scelto di fare questo corso perché diciamo che un'infarinatura molto piccola già l'avevo però devo riuscire a capire bene il computer per utilizzarlo serve anche a me come documentazione da mandare da ricevere quindi la lezione di oggi era che cos'è internet cosa ha iniziato a imparare cos'è internet intanto diciamo una piccola diciamo varia non specifica però una cosa abbastanza varia di cos'è internet e le applicazioni che si possono fare con internet ma è davvero utile a tutte le età saper usare il computer e sì perché altrimenti rimaniamo fuori del mondo del mondo che esiste adesso che è tutto computerizzato tutto informatizzato quindi rimaniamo proprio fuori un po' diciamo come se fossimo nelle nuvole in effetti grazie a tutti grazie a tutti